Bella ragazzi, eccoci qui di nuovo con un nuovo video di FIFA 13 Questa è una nuova serie che si chiama Acchiappiamo la Coppa No, la tecnica si chiama Verso la Coppa, però vabbè Questa è una squadra che ho creato al volo È una serie B argento ad eccezione di De Luca, attaccante dell'Atalanta Questa serie tratterà principalmente di Ultimate Team Allora andiamo subito ad iniziare il nostro torneo Sì, river Sì, sono pronto ad iniziare Iniziamo Dovremmo sicuramente i pazzi fortissimi Ah, per chi non lo sapesse, questo giocatore, che sembra scarsissimo È fortissimo È Stefano Botta che giocava nel Genoa tipo 4 anni fa, mi pare No, 5 anni fa E aveva fatto un gol allucinante scartandosi tutti nell'area di rigore avversaria Allora l'ho comprato per pura fiducia Vabbè, giochiamo Vabbè, Genoa Inter, va bene, va bene Oddio, questi sono fortissimi Nooo, perché Sono tutti velocissimi C'è spazio Giuseppe De Luca No Sì Eeeh 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 Lo sapevo quello da V qua Tanto la di torre indietro Come sempre OOOH Prevede tutto Stefano Botta Trova spazio per De Luca De Luca De Luca NOOOOOO Devo tirarmi prima Devo tirarmi prima Devo tirarmi prima C'è De Luca liberissimo! Mica come ha trovato che passaggio! De Luca, riprendi palla! Che occasione ci stiamo mangiando! Corri in Bakogo, corri in Bakogo! Scatola fulminatico della merda! Passala! Devi passarla! Non ci fa gol, è gol sbagliato, è gol subito! Uh, intervento! Che culo, che culo! Primo tiro, primo gol! Bene, bene, bene! Sì, sì, ok! Non dovevo mangiarmi per le occasioni! Ma quanto mica De Vito è fortissimo! L'unico difensore in bronzo che ho è fortissimo! Stefano Botta! Stefano Botta, ricupera palla! Vai, scatani avanti! Oh, fallo per me! Ma cosa? Buono, ricupero! Trova spazio! Bella palla! Stefano Botta! No! No! Stefano botta! No! Come ho fatto a sbagliare? Era un gol facilissimo! Il culo! Il culo! Facile e facile per Giuseppe De Luca! Che venga a segno il suo primo gol in questa squadra! Il mio cane che scappa di là perché sente che urla! Ti mette a fuggire sotto il letto! Oh Marco! Peccato! Peccato! Vai botta! Vai botta! Ho provato la finezza di Stefano botta però Mi sa che... però l'avevo preteso un po' troppo Bakogu! Dove tirare al giro? Vai da Luca! Vai Bakogu! Luca! Oh 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 oh! Oh oh! Il culo è il culo è il culo! Il culo è il culo! Il culo è il culo! Oh mannaggia! Grande! grande ma gliela passare la pasta sicuro questo rigore non ho parole albacogo di velocità di velocità che ce l'hai la falcata ce l'hai la rientra rientra di nuovo ce l'hai la falcata buona 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 no 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 corri 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 di basso dai che puoi recuperarlo dai che puoi occhio di là c'è spazio infatti trova il compagno cazzo mi ha saltato bene qua il fisico il fisico si si ma no avevo trovato lo spazio mannaggia e ne abbiamo tempo rivas inserimento dai corsi laterali mi sbaglia di nuovo non tocco troppo le sto troppo abituato con noi rois e gli altri no te maio cosa ha fatto va ti riprevo oddio che passaggio no uh si vai 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 e hanno poca finalizzazione però mi trovo veramente bene mi piace questa squadra allora stai qua a vedere no vai ma poco ma poco oh e qui e qui e qui bravo ma poco perché c'è De Luca in difesa non ha senso grande De Luca recuperò la Cavani signori ecco ho sbagliato tutti morti tutti lo lasso lo sapevo porca vacca adesso devo sempre a farmi segnare non ce n'è non ce n'è devo passarlo ho sbagliato ce l'avevo sapevo che mi recupera vai le ali esci si appresta a battere il corner tiro dalla bandierina ha battuto davvero male il fisico hai De Vito io credo in te De Vito grande ma poco vedete Luca no devi darmela dopo che ti eri girato non c'è più giocabilità inizia ad essere stank c'è un buco gigante grosso come una casa c'è De Vito in difesa non ci preoccupiamo troppo perché c'è De Vito e ma che culo che culo porca di quella vacca che culo qua le aveva presa non so come ma le aveva presa a questo punto direi di entrare in cunt mode perché se no stacco di Masi stacco di Masi e qui facciamo silenzio mio caro amico attacco al volo giocato spettacolare questo qua fuori questo qua veramente ho sbagliato ok ok dai che è finita dai che è finita e vincono si bella ragazzi abbiamo passato il turno è stato sofferente direi perché cioè comunque un 6 a 3 però ci ha fatto il gol ad 82esimo quindi io personalmente avevo paura che mi riprendesse perché con la mia fortuna è probabilmente tutto qui finisce l'episodio spero vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo per i quarti di finale bella ragazzi